Ok, ciao a tutti ragazzi, oggi giocherò a Slittery, a Geometry Rush, a Paper.io, a Brawl Stars, un po' di tutto. Ok raga, iniziamo con Brawl Stars. Ok. Let's play! Mh, vai! Vedo un attimo, i cilindici. Buono! Per cosa di nuovo? Ah, no. Non so se lo potremo vedere. Ah, non lo potremo vedere. Mi mancano, mi mancano l'ora. Adesso deciderò che Brawler mettero e non lo fa ancora. Dai, mi mancano. Dovrò vedere insieme. Ragazzi, per oggi giocherò a Brawl Stars. Ehm, per i domani i verterò un'ora. Ehm, per i domani i verterò un'ora. Ehm, ti so, ti so! Super, pericolo. Ehm, ok. Ehm, ok. G- R. Ehm, in LT! Sì, sì, sì. Ok ragazzi, adesso faremo, non lo so perché, però, faremo una reaction, cioè perché, io questo video non l'avevo visto, però dopo me lo vedrò, comunque devo finire di vedere il video dei 2player 1 console. Va bene ragazzi, vi dico che per questo video è tutto, bella.